voi Alex Ricalzi, buonasera Alex. Ciao Raffaella, ciao Radio Pestum, grazie per avermi invitato a fare questa bella chiacchierata. Il piacere è tutto nostro perché noi vogliamo festeggiare la primavera che sa già di estate e i tuoi piatti la celebrano alla grande, anche perché Alex tu non sei proprio milanese milanese, giusto? Per niente, sono proprio siciliano siciliano. Ah che bello! Quindi diciamo che siamo cugini, siamo un po' lì. Sì sì, da noi si dice frato cugino. Eh frato cugino. Perché i cugini diciamo che siamo quasi fratelli. Siamo molto vicini, sì assolutamente, assolutamente. Alex allora i follower che seguono me ma che seguono anche te mi hanno detto di farti alcune domandine perché ho chiesto, allora l'Urs in Cucina sarà mio ospite. Che cosa gli devo chiedere? Allora prima di tutto mi hanno chiesto qual è il tuo piatto preferito e poi perché hai scelto questo nome, perché ti chiami l'Urs in Cucina sui social? Allora parto dal piatto. Va bene. Che non è facile perché ce ne sono tanti, però siccome io dico sempre che i miei piatti sono comfort food, quindi cibo per l'anima, quello che ti fa stare bene. Il mio comfort food preferito che mi fa stare bene anche quando ci sono quelle giornate che non sono proprio colorate come si vede sui social è la pizza in tutti i modi, possibili e immaginabili. Pizza, pizza, pizza. Credo che più felice della pizza non mi fa niente. E allora vabbè non puoi non essere che nostro ospite, quando vuoi venire qui in campagna a mangiare la pizza. Perché la pizza fondamentalmente negli ultimi anni, visto che l'abbiamo revisionata come pizza gourmet, non è nient'altro che diventa un contenitore. Per cui sopra la pizza tu ci puoi apparecchiare. Diecimila ricette. Uno dei miei miti della pizza è Gabriele Bongi. Pizza romana, che è una pizza diversa rispetto all'altra pizza, ma è sempre pizza. E lui sopra quelle pizze lì ci fa dei piatti gourmet, acciughe del cantabrico, cicoria romana. La genovese. Io ho visto la pizza con la genovese. Adesso va tanto. Alla fine la pizza è il tramite, il mezzo, per poi poter inventarsene in tutti i modi. Sì, no, Bongi è simpatico, anche a me perché c'ha le mani grandi, poco come a noi, vedi. Lui è bravo, è bravo. E poi ti dico, vabbè, poi vi do dei suggerimenti magari per delle pizze un po' sfiziosi. Eh, va, allora ti aspettiamo. Mi ho fatta una la settimana scorsa alla Nerano e ho comprato un provolone del Monaco. Non devo dire, lo dico sotto voce, mi è costato un sacco di soldi perché a Milano tutto costa di più, ma veramente troppo. E mi vergogno pure a dire quanto l'ho pagato. Comunque, perché l'orso in cucina? Perché tutti i miei amici mi dicevano quando ho aperto la pagina Facebook che cucinavo troppo, mangiavo troppo e che mangiavo come un orso ed ero grosso come un orso. Voilà, è arrivato. Eh beh, sì, un pochino ci somiglia a un orsetto, dai, un orsetto coccoloso. Ma sì, dai. Sei simpatico. Questi orsi che sono stati tanto maltrattati in questo periodo, dalla stampa, da tante cose, vabbè, comunque non siamo lì per quello, parliamo di cucina. Purtroppo sì, i tuoi prop, ma dove trovi poi tutti questi oggettini a formi d'orsi? Allora, un po', prima viaggiavo un po' di più, adesso un po' di meno, un po' i viaggi, un po' il web perché trovi tante cose, un po' perché, non lo so per quale motivo, ma spesso anche nei piatti ci sono delle tazze con disegnati gli orsi, piatti, ma anche di cose non necessariamente da cuscina, da gadget o da bambino, proprio collezioni di ceramiche importanti, forse un po' quelle più del nord Europa. E quindi, vabbè, tra le collezioni che faccio io, tra gli amici che se vanno in giro e vedono qualcosa, me la portano. Allora, a casa mia è diventato una sorta di museo, di contenitore, di tante cose, e tante cose a tema di orso. Sì, sì, tantissimo. E quindi, diciamo che questo ha creato anche un po' più di identità. Certo, certo. Ma lo sai che anche io ti penso? Che quando mi trovo in giro e vedo qualcosa a forma d'orso, dico, ma no, ma questo piacerebbe tanto. Ma ti arriva qualche regalo? Ma c'è stato un periodo che tutti quelli che vedevano, come hai detto tu, ti penso, vedo una cosa, fotografavano e mi taggavano nelle storie, pensavo a te. E quindi ormai... Ma mandatemi, non pensatemi solamente. Vabbè, Alex, torniamo alle cose serie. Da dove è nata la tua passione in cucina? Tu non nasci come cuoco, non nasci come lo chef. Io ho fatto tante cose, ma veramente tante. Però ho avuto la fortuna di vivere una regione come la vostra, dove la cucina è veramente parte integrante della cultura. Perché abbiamo avuto tante invasioni che hanno portato veramente un melting pot, un boot forry di cose bellissime. Detto questo, avevo una nonna e ho una mamma molto brava in cucina, molto fantasiose e come dicevamo prima, con della materia prima a disposizione, importante. Per cui da lì ho attinto... Prima ho imparato a essere goloso, poi ho imparato ad osservare quello che facevano e poi quando sono andato a vivere da solo, di necessità virtù, tutto quello che avevo accumulato dentro di me, ho dovuto farlo esplodere e metterlo in atto. All'inizio forse non è facile, però poi inizi a capire dove sbagli. Con una telefonata chiedi magari come hai sistemato il sugo, cosa gli hai messo per farlo buono come lo facevi tu e quindi poi quelle nozioni si trasformano in guaderni di cucina. Perché credo che ogni mamma, ogni nonna ha avuto un guaderno di cucina che poi si ha tramandato e se non l'ha fatto in modo scritto, l'ha fatto in modo verbale perché come ci dicevamo in una nostra chiacchierata, le nonne andavano a sentimento, per cui la ricetta del ragù, della frolla, della genovese, di quello che vuoi, per loro era a sentimento. Noi adesso giustamente segniamo tutto, anche i grammi perché lo spreco in cucina non è una bella cosa. Non dobbiamo. Da blogger dico che se devo dare la ricetta della pasta frolla è ovvio che per una crostata ti dico quanto è grande la tortiera e perché se ti dico le dimensioni doppie poi tu che l'andrai a rifare ti troverai uno giusto di impasto. È vero che probabilmente non ti spreca perché saprai come utilizzarlo, però diciamo che non è giusto gettare il cibo e quindi questo è stato l'approccio alla cucina, due figure importanti, la mamma e la nonna. E quindi questo come ti ha fatto diventare un food blogger famoso perché tu comunque hai un bel seguito e lavori anche, quindi oltre ai social… Questa è stata la passione, la passione perché poi diciamo che era una cosa che mi piaceva tanto, vedevo altri food blogger prima di me, che avevano iniziato prima di me e ho cominciato a prenderli ad esempio e quindi dicevo ma chissà se un giorno ci arriverò io. Poi da questo punto di vista posso dire che sono fortunato perché vivo in una regione è in una città, una provincia dove il cibo è diventato una costante, è una moda che ha preso sempre più piede, che lega veramente tutte le culture che ci sono, perché se tu vieni a Milano c'è thailandese, c'è giapponese, c'è cucina del Sichuan, vuoi andare a mangiare marocchino, trovi veramente un po' di tutto. Quindi diciamo che il terreno è fertile per poterla coltivare come professione. Però vedo che ormai, visto che comunque l'Italia è una repubblica fondata sul cibo, sta mettendo un po' d'accordo tutti questa cosa e credo che anche per chi sta un po' più lontano da Milano diciamo che è più facile farlo diventare un lavoro. Quindi sì, piano piano ho iniziato ad avere seguito, poi frequentando eventi, frequentando un po' il mondo del blogging milanese, sono riuscito a farmi notare. Siamo tanti e... Ma ognuno ha il suo spazio. Ognuno lo fa in un modo diverso. Bravissimo. Ognuno lo fa veramente in un modo diverso. La cosa bella è questa. Sono d'accordo. Perché puoi attingere da ogni profilo a delle cose, delle nozioni, a un modo di vedere la vita e le cose differente. Io credo che il mio personaggio, quello che sono, è ben spiegato. È trasparente. Non ci sono filtri e non ci sono maschere. Quindi se domani faccio un posto dove parlerò della confettura di ciliegie e perché realmente mi piace, perché realmente l'ho testata e so di cosa sto parlando. Difficilmente mi prendo un lavoro che non mi rappresenti. Ti capisco, ti capisco. Sono della stessa linea. Io so anche che tu sei riuscito a realizzare un tuo piccolo sogno nel cassetto, che poi tanto piccolo non è stato. E diciamo anche un onore anche alla mamma e alla nonna. Che cosa c'è di sorpresa nel cassetto dell'orso in cucina? Guarda, si vede lì? Aspetta che... No, faccila vedere meglio. Certo, certo. Allora è qui. Questo qui... Ma che bello. è il contenitore delle ricette di cucina che facevano la mamma e la nonna e si chiama Cartoline dalla mia Sicilia perché la cartolina racconta di un ricordo vissuto. Quando l'hai già spedita è un ricordo e la mandi a qualcun altro. E allora io l'ho immaginato come delle cartoline, delle ricette che mi hanno fatto crescere e quindi le ho raccontate con un'introduzione che era quella che io avevo nella mia memoria. Per cui parlo dei cannoli e racconto un aneddoto divertente che ancora ci ridiamo in famiglia. La nonna fece i cannoli per Natale, li ha messi a tavola e prima di metterli a tavola li ha spolverizzati con lo zucchero a velo, come si usa a fare con i dolci in generale. Quando abbiamo morto questi cannoli c'era qualcosa che suonava, non erano buoni come sempre e la bocca aveva un po' di frizzantino, aveva sbagliato e anziché metterlo zucchero a velo, aveva messo la magnesia che era un digestivo in polvere, aveva sbagliato il barattolo e quindi ci abbiamo fatto una grande risata e tutte le volte che si mangia un cannolo in famiglia la memoria va lì. Credo che una spolveradina di magnesio ci voglia perché non ha più quel sapore il cannolo. Dopo un braccio luculliano. Non è male. Come tu pensai che noi del sud si sa quando ci sediamo a tavola ma non si sa quando ci sediamo. E quello è bello. Quindi questo è stato e quindi un po' questo qui è l'impronta del libro e lo trovate su Amazon come cartoline della mia Sicilia di Alex Licalzi. Quanto tempo ti ha tolto? Ricette e riporti dell'orso in cucina. Bello, bello. Lo consiglio perché è veramente invitante e invogliante. Non sono solamente delle semplici ricette, non sono solamente un elencare di ingredienti e di preparazione ma c'è veramente un'anima e un sentimento che viene dalla famiglia e dalle tradizioni a cui siamo tutti quanti legati. quindi delle ricette evocative. Quanto tempo e energia ti ha tolto questo libro e poi ti ha dato quando l'hai visto stampato? Allora mi ha tolto tre mesi. Tre mesi intensi, veramente intensi e me ne è arrivata tanta quando ho avuto la prima copia in mano. Me ne ha tolta tanta durante la presentazione perché sono stati due mesi di fuoco. Tutto novembre e tutto dicembre è stato un tour de force. Bellissimo. Sono arrivato fino a Roma, anzi sono arrivato fino a Catania. Però non sei passato di qua, hai capito? Quello è il problema. E organizzeremo. Con l'autunno. Adesso abbiamo ripreso con le presentazioni, in realtà ce ne sarà. A maggio una a Torino, al mercato centrale. Poi a luglio sarò a Cagliari per un festival e farò due presentazioni durante il festival in un lido, all'orario dell'aperitivo, chiacchiereremo un po'. Diciamo che io poi, essendo un po' così estroso, la presentazione, non avendo scritto un romanzo, la presentazione io l'ho immaginata in un modo diverso, con le mani in pasta, per cui ho coinvolto le persone che venivano a preparare gli arancini di riso. Ah, che bello. Mi portavo il materiale già pronto da assemblare e quindi ho dato un po' di manualità. Uno show cooking? Hai fatto uno show cooking? Io te lo portavo a casa e mi mandavano le foto con l'arancino fritto nelle proprie cucine. Perfetto. Una gran soddisfazione. Allora ci organizziamo, Alex, sarai mio ospite in autunno perché voglio assaggiare anche io i tuoi arancini. Facciamo una masterclass di arancini dalle tue parti. Se mi ospitate io prendo un treno e arrivo. Tranquilli, tranquilli. Noi a settembre ritorneremo ancora più carichi qui in cucina con Spadella Tauro e quindi organizzeremo delle cose grandiose. Alex, io ti ringrazio enormemente di essere stato nostro ospite. Sei rinvitato quanto tu vuoi, anzi no, abbiamo già preso appuntamento per l'autunno e io consiglio a tutti di cliccare l'orso in cucino su Instagram, Facebook, anche il blog. Sei su qualche altra piattaforma? No. Ci bastano questi. Ma la uso veramente poco. Pure io. Sì, diciamo che ricondivido il reel che metto su Instagram. Perfetto. L'Instagram è abbastanza impegnativo. Sì, 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 condivido con te. E vi consiglio ancora di dare un'occhiata al bellissimo libro di Alex Licazzi che ci ricorderà il nome, cartoline? Dalla mia Sicilia. Perfetto. Allora io ti saluto Alex, ti auguro un buon fine settimana e con voi... Io ti auguro una buonissima primavera e una bella estate piena di colore, di profumi e di buon cibo. Grazie. Questo a noi in campagna non ci manca, non ci manca il venire di questo. Alex, un bacione grande grande. Ciao, caratteristica. E ci rivediamo sui social. Ciao a tutti. Con voi ci risentiamo dopo un piccolo break musicale.